Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Salvatore Palomba e oggi faccio un video un pochino particolare perché devo darvi delle comunicazioni No, state tranquilli, non sto chiudendo il canale Allora, la prima sono i miei auguri per un sereno 2021 Vi auguro pace e bene La seconda è che ho creato un'email per il canale Un'email dedicata soltanto al canale dove voi potete contattarmi in privato magari mandandomi foto, video che volete condividere con me sui telefoni oppure potete tranquillamente mandare le richieste dei video Mi scrivete e mi dite Salvatore, puoi fare questo video? Puoi mettere questo video? E io appena li leggo vi rispondo E perché ho fatto questo? Per evitare che certe vostre richieste io non le veda o comunque rimangano in sospeso per un sacco di tempo e poi vengano sepolte magari in futuro da altri commenti Quindi l'email la metterò sia nella descrizione di questo video che nella sezione contatti del canale E niente, detto questo vi auguro appunto di nuovo un sereno 2021 e ci vediamo alla prossima